Continuano i controlli da parte dei carabinieri del comando provinciale di Ragusa nei centri urbani, a finire nel mirino storie diverse ma simili tra loro e di due comuni differenti. Parliamo di Vittoria e Acate. I carabinieri di Scoglitti hanno arrestato un ragusano residente a Scoglitti di 62 anni per furto aggravato di energia elettrica. L'uomo fu sorpreso mentre rubava energia elettrica per alimentare la propria abitazione. Ad accorgersi di questo furto, i militari dell'arma, con la stessa ditta Enel che nel corso di un controllo incontrata a Resinè, hanno accertato l'esistenza di un allaccio abusivo da contatore dell'energia pubblica realizzato tramite un bypass di fili. Adesso il 62enne dovrà rispondere del reato, furto aggravato di energia elettrica. Oltre lui, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile a seguito di esecuzioni di ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, hanno tratto in arresto Arturo Lamonica, 46 anni, residente a Vittoria, celibe, disoccupato, pregiudicato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari poiché nel corso dei primi mesi del 2021 si è reso responsabile di reiterate violazioni alla misura detentiva in corso. L'arrestato è stato associato alla casa circondariale di Ragusa. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno dato esecuzione al decreto di sospensione cautelativa della misura alternativa dell'affidamento al servizio sociale, emesso il 18 marzo 2021 dall'ufficio di sorveglianza di Siragusa, restando una 37enne originaria di Vittoria. In particolare, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, l'arrestato ha commesso diverse violazioni alla misura detentiva in corso. La donna è stata associata alla casa circondariale di Agrigento. I carabinieri hanno arrestato in fragranza del reato di evasione Francesco Campione, in atto sottoposto agli arresti domiciliari in Vittoria. In particolare, i militari dell'arma si sono recati presso l'abitazione dove l'uomo doveva scontare la misura detentiva degli arresti domiciliari, ma all'atto del controllo l'interessato non veniva trovato a casa. Le ricerche si sono subito effettuate dai carabinieri che consentivano di rintracciare Campione in una via limitrofa alla sua abitazione, mentre a bordo di una bicicletta faceva ritorno nella sua abitazione. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari. I carabinieri della stazione di Scoglitti hanno deferito per i reati di recitazione furto a possesso ingiustificato di chiavi alterato Grimaldelli, Ionut Christian Ciofico, 22 anni, residente a Scoglitti, in atto sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di Vittoria. In particolare, nella notte del 18 marzo scorso, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei furti in abitazione, la pattuglia della stazione di Scoglitti ha sorpreso il cittadino rumeno alla guida di un ciclomotore, marca Aprilia, modello Scarabeo, oggetto di furto denunciato il 16 marzo, presso la stazione di Santa Croce Camerina da una donna di 49 anni. Nel corso delle perquisizioni personale veicolare, il Ciofico è stato trovato altresì in possesso di diversi attrezzi atto allo scasso, nascosti all'interno di uno zaino nonché alcuni capi di vestiario e profumi rubati poco prima del controllo nell'abitazione di una donna di 45 anni residente a Scoglitti. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi al fine di scoprire eventuali responsabilità legate alla commissione di altri furti avvenuti in zona.